Ho il sospetto che però questo tema della polarizzazione, delle fake news e soprattutto della dittatura del politicamente corretto sia come dire una parte, un segmento di una più complessa questione, più vasta questione che è la decadenza dell'Occidente, quella che Spengler denunciò nel tramonto dell'Occidente. C'è una decadenza occidentale perché per esempio non credo che in Cina ci siano questi problemi perché voi sapete che il pensiero di Xi Jinping è stato inserito nella Costituzione, quindi quello che pensa Xi Jinping è automaticamente parte della Costituzione cinese e quindi il problema non sussiste.